bello Bum 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 Ciao a tutti ragazzi, io sono Bayon Gamer e anche oggi siamo tornati con un nuovo episodio di PES 2016 modalità MyClub. Oggi signori me si scende in campo per ben due partite, ma visti gli ultimi avvenimenti ho deciso di cambiare il mio stile di gioco, ovvero molto più falloso. Ovviamente per chi lo merita, quindi andiamoci a ricercare subito il primo avversario di oggi. Eccolo qua, Fabietta 87. Ok, ci siamo. Ok ragazzi, dai, dai. Eeeh, iniziamo con i falli? Ho capito. No, vabbè. Vabbè ragazzi, calma, 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 calma. Vai! Ma papà che parata! Bella! 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 Cazzo di anticipo. Eeeh, che cazzo però, dai! Vedi un po' di giocare bene. Vai che ci sei! Porca puttana! Pallo a me, c'è una ragazza minorella, mi disfascia con la testa. Mi ha colchito, ti butto l'eccesso nei paoli. Vai! Pallo! Ma davvero! Vai! E vabbè, vai, dillo. BOOM! Ma dai! Here we go! Eccola, dai. Voglio il rosso. Voglio il rosso. Bella! Vai! Mi chiamare una. Non mi vai. Che cazzo? Ma vaffanculo, tira! Il palo! Tira! Oh! E vaffanculo! Che cazzo! Ma che è? Ultimamente sfigati, bro! Non ci credo ragazzi, ma dai! Ma perché giocare così? Lavezzi al solito ferme. Perché è giusto che sia così. Ma è ben assegnato! Bravo Lavezzi! Bravo! Mi sei piaciuto stavolta. HUIA! Guarda! Qua! Che bravo con le scivolate! Sì! Bravo! Bravo! Ora ti riaprazzo tutti! No so cazzi pua! Attenuto! Come dicono al ruolo, va bene? Ops! 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 Che c'è? Non ti piace così? Fatality! No? A me l'ha fischiato il fallo! Angolo! Dai Gervinio! Che cazzo! Ma sembra addosso al portiere! Scivola, 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 testa di cazzo, scivola! Parla bene e usa l'educazione, è chiaro? Ok ragazzi, andiamoci a ricercare il secondo avversario di oggi. Ok ragazzi, news dell'ultima ora. Praticamente vincendo quella partita abbiamo raggiunto i punti per poter salire in divisione 8. E direi anche di procedere. Perfetto, andiamoci a ricercare il secondo e ultimo avversario di oggi. Eccolo qua il prossimo campione di oggi. E' Nobert Falto! No ragazzi, guardate che ha fatto questo furbocchione qua. Praticamente c'ha in campo Ayu, Hazard, Rodrigo, Tourette, Pogba, 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 Barzagli, Lam, in porta c'è Neuer. E sapete perché è una squadra di livello 4? Guardate un po' la panchina. Tutte patacche. Abbiamo trovato un furbocchione. Va bene dai, direi di procedere. Ok, vediamo che so combinare questo furbocchione. Un furbocchione qua. Porco zio! Gazzetto! Bella! Così! Era bella cazzo, era bella! Eccolo là! Classico, classico! Ma ce l'avete fatto il callo, giusto? Eccolo, una lasagna a tirare da fuori. Complimentoni! Bravo! Vai, vai, scivola! Scivola, vai! Vai! Scivola! Oh, questo parte da fuori e tira, eh! Non so a zarda entrare. Giustamente, il gioco per i buoni ce li ha. Occhio, occhio! Mamma mia! Ok. Porca puttana, a me ha ste cazzo di skill. Non dire, ma no, ma ci lo chiamo alla polizia! Ok. Perché è così vicino? Oh, oh, oh! Ma perché? Ok. Vai! Spettacolo! Spettacolo, cazzo! Spettacolo! Spettacolo! Nooo! Ma io non l'ho fatto uscire! Ma che cazzo combina sto pesta di cazzo? Parla bene e usa l'educazione, è chiaro? Ma per fortuna che è fuori gioco, oh! Qua c'è lì! E che cazzo! Bella! BUM 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 Merda! Merda è passato! Merda, sta ripassando? No, 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 no! Ma questo è culo! Ragazzi, questo è culo! Bella! Bella! Por il gioco! Pazzesco Bella, bella Ok 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 Why Ma quanto culo c'hai, quanto, quanto, quanto culo c'hai Prendissimo parolo Vai Why Walcott Bella, bella Tira cazzo, tira TIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII M33 M opera l puoi VOLCUT VOLCUT VA Sмовito Che fai il tiki taka ora? Eh? Fai il tiki taka? Ok bravo, bravo, abbiamo trovato un altro campione, un altro testa di cazzo abbiamo trovato. Parla bene e usa l'educazione, è chiaro? Ora fai il tiki taka, è un po' scaduto, perché non l'hai fatto prima? Eh? Guardalo. Non ci credo ragazzi, non si possono perdere le partite così, assolutamente no. C'è più culo che salute questo, cioè vedere le statistiche sta va bene un pareggio, va vaffanculo. Cioè ma perdere così no? Vi devo calmare un attimo, calmati Bayon, calmati. Vi state divertendo almeno? Io spero di sì, ovviamente spero che il video vi sia piaciuto, quindi vi invito a lasciare anche il pollicione su e a commentare. Alla prossima, ciao!